Sono molto contenta che il Presidente sia venuto a conoscere questa realtà bellissima dove diciamo che io tengo particolarmente a questo centro di urno in quanto la mia esperienza amministrativa è proprio partita da Rurabilandia in quanto facevo parte del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, la Giunta e tutto il Consiglio regionale di questo mandato hanno avuto una sensibilità particolare verso il mondo del sociale anche grazie all'assessore Quaresimale e sono certa che anche nel prossimo mandato continuerà a sostenere queste realtà.